...1919 Aspettiamo un istante la superpass Al quarto posto con 9 atleti al via L'Atletica Trento CMP L'Atletica Trento CMP Terza posizione con 12 atleti al via La Fincantieri Atletica Monfalcone Al secondo posto con 12 atleti anche loro L'Atletica Fiamme Crevisi San Vito al tagliamento Pubblico e Mari si usano per applaudire Fatemi sentire gli ultimi sforzi importanti E al primo posto l'Atleti Club Apiceglia Che salutiamo con un applauso Perché non ci sono Bene, bravi Eccoli, le ho viste la via Bravissimi Se la sono fatta tutta con la carrozzina Un applauso per loro, grandiosi Oh, e non sono gli ultimi, che ultimi è E tu mi trovi la carrozzina, incredibile Miki, cose Bene, abbiamo anche Per numero di iscritti Per numero di iscritti Artes